Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Sono particolarmente tesi e infibrillazione gli algidi euroinomani delle brume di Bruxelles. Perché sono tesi e infibrillazione? Per il fatto che, ne dà conto tra gli altri Repubblica, rotocalco turbomondialista e voce del padronato cosmopolitico, il fatto che, dicevo, Orban rischia di trovarsi ai vertici dell'Unione Europea. Proprio così, in ragione del fatto che Michel sarà candidato probabilmente alle elezioni europee e quindi il suo posto ai vertici dell'Unione Europea potrebbe trovarsi sguarnito e potrebbe essere occupato proprio da Orban. È una notizia che evidentemente genera inquietudine presso gli algidi tecnocrati delle brume di Bruxelles, in ragione del fatto che Orban continua a essere oggi un corpo estraneo, se così vogliamo dire, rispetto alla struttura tecnocratica di Bruxelles. Non solo un corpo estraneo, ma anzi un fastidio incredibile per gli euroinomani, dato che Orban sta conducendo una politica tutta sua, ben distante dai parametri dei vincoli di Bruxelles. Addirittura Orban si concede il lusso di non considerare Putin un nemico, si concede il lusso di far valere politiche nazionali ben distanti da quelle cosmopolitizzanti di Bruxelles. Insomma, un nemico di Bruxelles che potrebbe però, per ironia della storia, trovarsi ai vertici delle istituzioni europee. E questo genera una notevole ansia negli euroinomani di Bruxelles e in noi, lasciatecelo dire, genera una zaratustriana risata, perché sarebbe davvero un caso surreale se Orban si trovasse ai vertici dell'Unione Europea. Forse potrebbe essere la volta buona che l'Unione Europea implode e, devo dire, non proveremmo alcun rimpianto e alcun senso di sofferenza per un evento di questo genere.